Buongiorno e benvenuti a tutti a questo incontro. Sono Fabio Binaschi di Contiindustria Mantua. In collaborazione con Mars abbiamo realizzato questo webinar che parlerà di salute e sicurezza. In particolare per quanto riguarda i dipendenti che affrontano trasferta all'estero o sono distaccati all'estero. Quindi in sostanza si parlerà di tutti quegli aspetti che un dottore di lavoro deve tenere a mente e a disposizione per mitigare i rischi. Quindi informazioni sul Paese, azioni di prevenzione, nonché tutti gli aspetti delle coperture assicurative che ci devono essere. Io do la parola subito ad Alessandro Martinelli, responsabile dell'ufficio Mars di Mantua. Grazie Fabio, benvenuti, buon pomeriggio a tutti. Grazie per partecipare a questo nuovo webinar in collaborazione con Confindustria Mantua. Il tema di oggi, come diceva Fabio, è la tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti che, come sappiamo, è una responsabilità del datore di lavoro anche in caso di trasferte o di periodi di distacco all'estero. Ne parleremo oggi con il collega Luca Lombardi, employee health, Pietro di Comite, commercial director della società international SOS. La crisi geopolitica e la pandemia del covid-19 hanno evidenziato l'importanza di disporre di informazioni puntuali e attendibile riguardo ai vari Paesi in cui si viaggiano o sono distaccati i propri dipendenti e di avere efficaci coperture assicurative in grado di garantire un'immediata assistenza o cure in caso di bisogno per i dipendenti all'estero. Lascio la parola a Luca, grazie a tutti. Grazie Alessandro, grazie per le introduzioni. Benvenuto a tutti, anche da parte mia. Io adesso condividerò una presentazione insieme a Pietro. Vi presenteremo alcuni spunti, alcune riflessioni, anche alcune testimonianze di casi concreti che sono stati gestiti sia a livello assicurativo sia a livello assistenziale per aziende, nostri clienti. Questo webinar che effettuiamo insieme a Confindustria Mantua vede quindi la partecipazione di Marsh Italia, di cui appunto io faccio parte, e di International SOS, di cui Pietro di Comite appunto è Commercial Director, quindi ci darà proprio il punto di vista di chi in modo molto operativo, molto concreto, si occupa di assistenza, di security e salute, ovvero tutte quelle attenzioni che il datore di lavoro deve avere nel momento in cui ha dei collaboratori in viaggio o comunque all'estero. Condivido la prima presentazione che appunto presenterò io e poi lascerò la parola a Pietro per tutto il, diciamo, la sua parte. Naturalmente potete fare delle domande anche durante la nostra presentazione, c'è un pulsante apposta, le domande poi verranno da noi lette e valuteremo insomma se rispondere già durante le presentazioni oppure a fare una sessione finale in base alla tipologia di argomento. Datemi solo un attimo che condivido. Eccoci. Allora, vogliamo iniziare il webinar e quindi la discussione di questo tema partendo dalla presentazione di quelli che sono gli attori che sono coinvolti in un approccio ai viaggi, alle trasferte, alla permanenza dei dipendenti, dei collaboratori all'estero. Quindi contempliamo da subito la presenza dell'assicurazione, vedremo adesso in quali tipologie, e dell'assistenza. Sono due, diciamo, versioni che le aziende hanno avuto modo di conoscere, di richiedere a livello di necessità. L'assicurazione è sostanzialmente lo strumento che consente di coprire degli sborsi finanziari, quindi avere a disposizione un terzo, che è l'assicuratore che si fa carico di spese legate ai imprevisti, che riguardino la salute o la sicurezza, quindi di eventi che possono accadere durante una trasferta. La trasferta è ovviamente il periodo di tempo che intercorre dal momento in cui si lascia l'abitazione per intraprendere un viaggio al momento in cui si rientra. Quindi è un periodo composto di tantissime attività che si svolgono in un percorso molto lungo, anche dal punto di vista geografico, perché si utilizzano voli aerei piuttosto che i viaggi in treno, si utilizzano strutture alberghiere piuttosto che di altro tipo, però insomma ci sono tanti contesti in cui le persone poi si trovano e che durante questi periodi possono presentare dei rischi inattesi. L'assistenza invece è tutta quella, diciamo, modalità di supporto che può intervenire o a priori, quindi modalità preventiva di formazione, di preparazione a un viaggio, a poi tutto anche una fase di gestione di emergenze, quindi la necessità da parte del dipendente di richiedere un supporto piuttosto che l'informazione relativa a eventi che possono accadere mentre ci si trova in trasferta e poi quindi anche a tutta la risoluzione di queste situazioni di emergenza che il dipendente si può trovare ad affrontare. Quello che ci tenevamo appunto a vedere a livello introduttivo sono le principali coperture assicurative che normalmente vengono prese in considerazione quando si parla di trasferte o di espatrio. Naturalmente la copertura business travel, la copertura chiamata anche mission, insomma quella che riguarda il viaggio, è una copertura che nasce per rispondere a un'esigenza di trasferta, quindi di un viaggio occasionale o ripetuto che abbia comunque una durata inferiore all'anno, quindi meno di 365 giorni e quindi normalmente o per sua natura assicura il dipendente, il dipendente che viaggia. Può avere delle modalità di estensione nel momento in cui il viaggio di lavoro sia seguito da un viaggio di piacere, quindi un periodo collegato al viaggio di lavoro, però diciamo che il focus resta sul sul trasfertista, sul dipendente trasfertista. Quali sono le garanzie che prevede? Allora nasce per coprire, per tutelare tutte quelle evenienze che insorgano durante la trasferta, quindi le spese sanitarie ad esempio che sono assicurate tramite la polizia viaggi sono quelle legate a malattie o infortuni occorsi durante la trasferta, quindi non tutte quelle casistiche di cure sanitarie conseguenti a una patologia in qualche modo preesistente che era già diciamo nota e magari anche in cura nel paese d'origine. Questo perché appunto la polizia nasce per gli inconvenienti di viaggio. La polizia viaggi copre anche gli infortuni, quindi i casi di invalidità o decesso derivanti da infortunio, ha una forma di tutela anche per la responsabilità civile verso terzi, quindi per danni cagionati a terzi, ha anche ad esempio dei massimali a copertura delle spese di tutela legale e poi ha delle garanzie tipiche dei viaggi, quindi eventuali annullamenti, ritardi di un volo o di un viaggio in treno piuttosto che lo smarrimento o il furto di beni personali o aziendali. Tutte queste sono delle garanzie che tipicamente sono assicurate tramite questo tipo di polizia. La gestione, l'assistenza è offerta tramite una centrale operativa, un'app che il dipendente può interpellare in caso di necessità e che quindi può offrire delle informazioni in merito alla situazione contingente, alla sicurezza legata al paese in cui ci si trova. Sulla destra di questa slide vedete invece le caratteristiche di una copertura assicurativa spiccatamente rimborso spese mediche, quindi un piano sanitario che sia in grado di intervenire per qualsiasi casistica e che quindi si vuole indirizzare a tutti quei soggetti che non si trovino semplicemente in trasferta per un limitato periodo di tempo, ma che abbiano diciamo invece una situazione di distacco, quindi che per un periodo superiore all'anno si trovino presso un paese non corrispondente al loro paese di origine e quindi abbiano delle necessità diverse, ovvero anche di cura di patologie croniche piuttosto che conseguenze magari di patologie o anche infortuni, pensiamo anche soltanto alla fisioterapia magari legata a un infortunio accaduto in passato e che quindi devono essere diciamo così curate anche nel paese in cui ci si trova. Queste coperture possono essere stese anche ai familiari, anche essi in distacco con il dipendente e offrono normalmente una ampiezza di garanzia di coperture molto importante che non riguarda solo le spese ospedaliere ma anche quelle legate all'area specialistica, diagnostica, odontoiate, insomma a tutte quelle voci che possono essere in qualche modo utili per la salute delle persone. Entrambe queste coperture prevedono invece il rimpatrio sanitario in caso di necessità di cure al di fuori di quella del paese in cui ci si trova. La centrale operativa è disponibile anche per le coperture sanitarie ovviamente, quindi c'è una struttura in grado di rispondere H24 e indirizzare verso delle strutture sanitarie e autorizzare quindi anche dei pagamenti in forma diretta verso le strutture sanitarie e quindi insomma entrambe queste soluzioni presentano un punto di riferimento per chi si trova in viaggio o chi si trova all'estero in genere e quindi possono essere assolutamente uno strumento utile per coprire delle spese che possono appunto derivare da un bisogno di salute, quindi da una malattia o da un infortunio, oppure anche per ricevere delle informazioni, dei suggerimenti legati a situazioni contingenti anche di sicurezza. Il passo successivo che volevamo fare insomma in questa sessione è quello di portare però il discorso e anche l'attenzione vostra, quindi delle aziende, su quello che però deve essere al di là dello strumento assicurativo o di assistenza, su quello che deve essere il modello di gestione di questi rischi, nel senso che ci sono tante fonti normative se pensiamo al testo unico della sicurezza sul lavoro piuttosto che al decreto legislativo 231 ma anche al codice civile che comunque affida al datore di lavoro la responsabilità per diciamo così l'incolumità o comunque la sicurezza del dipendente in tutto l'orario lavorativo e se pensiamo alle trasferte neanche solo all'orario lavorativo e quindi è evidente che il datore di lavoro deve mettere in atto dei modelli, degli strumenti, delle soluzioni che prevengano i rischi per il dipendente e che gli diano tutti gli strumenti eventualmente necessari per affrontare quei rischi che non si è riusciti a evitare. Questo modello evidentemente non può basarsi soltanto su chi eventualmente paghi delle spese deve essere un modello che a nostro avviso contempli anche degli strumenti più efficaci capaci di formare le persone che viaggiano quindi di dare informazioni relativamente ai paesi in cui si recano ma di essere anche caratterizzato da una proattività. Qui distinguiamo un po' le funzioni, le funzionalità delle centrali operative intanto. La reattività è tipica della centrale operativa che risponde a una richiesta di intervento, un bisogno, una domanda ed è molto importante sicuramente. La proattività invece rappresenta sicuramente un qualcosa in più e quindi permette alle centrali operative di essere loro a mettersi in contatto con l'azienda, col dipendente e a segnalare una emergenza, a dare dei suggerimenti in grado anche di salvare una vita. Quindi è uno strumento molto utile che però può essere fatto da chi ha una visione, una conoscenza sia di tipo medico sia di tipo security. Per questo motivo noi abbiamo voluto coinvolgere e lavoriamo da tanto tempo insomma con International SOS che è un po' diciamo l'espressione concreta di questo di questo modello di assistenza proattiva e quindi insieme adesso a Pietro proveremo a darvi un po' di diciamo una descrizione di quello che è questo modello di gestione integrata e come funziona. Pietro, lasciare la parola a te, io avevo un'altra slide che però magari riprendiamo alla fine, così adesso andiamo nel vivo del mondo di International SOS. Scusate, se intervengo al volo, chi ha domande da porre può utilizzare l'icona domande e risposte che situate in basso al centro. Grazie, grazie mille Luca. Grazie per l'introduzione. Allora mi permetto anche di condividere con voi alcune slide che ho preparato per appunto l'intervento di oggi. Spero che riusciate a vedere il mio schermo visto che appunto siamo qui oggi mi hanno gentilmente già introdotto gli altri relatori ma molto brevemente sono appunto i responsabili per il mercato italiano di International SOS e per anni il mio ruolo è stato proprio quello di analizzare i rischi delle aziende quando si recavano all'estero. Quindi ho un background di esperienza diciamo dal punto di vista geopolitico di gestione dei rischi per le aziende. Quindi uno dei punti della presentazione di oggi sarà quello di condividere con voi un po' la nostra visione della situazione attuale ed anche come le aziende, come i nostri clienti stanno mitigando questi rischi in questo periodo particolarmente delicato. Per ricollegarmi diciamo a quello che Luca ci ha appena esposto quindi al duty of care, quindi al dovere di protezione che come anticipava Luca è per le norme da lui richiamate in capo al datore di lavoro e all'azienda, penso che sia importante allargare un pochino questo concetto. Quindi sì c'è una responsabilità giuridica che è il motivo per cui siamo qui oggi anche a parlare di questo è uno dei motivi principali perché l'azienda ha una responsabilità giuridica alla quale deve adempiere e oltre alle norme che citava Luca c'è un caso di giurisprudenza recente, abbastanza recente su questo argomento, argomento che è la sentenza Bonatti in cui purtroppo l'azienda è stata condannata appunto in maniera anche voglio dire sia civile che penale per non aver appunto garantito il duty of care quindi il dovere di protezione di alcuni collaboratori di questa azienda che si recavano su un field di un loro cliente e nel tragitto sono stati rapiti e quindi fondamentalmente il giudice ha poi detto ma non avete garantito l'informazione di questi collaboratori, la formazione e l'assistenza durante il viaggio e diciamo che qui si vedono anche un pochino, cominciano a vedere un pochino le differenze con appunto un programma assicurativo, un'assicurazione che ha un profilo di contenuti un pochino diverso rispetto a questo tipo di servizi, però come dicevo prima questo è l'aspetto giuridico direi del duty of care, del dovere che il duty of care quindi aiuta a mettere l'azienda se non al riparo completamente ma a ridurre questo rischio giuridico, aiuta anche a mitigare altri rischi quindi aiuta anche a mitigare i rischi che possono derivare dal mancato successo di una trasferta quindi che voi abbiate un tecnico, un commerciale, una qualsiasi persona che va all'estero ogni volta che questa missione viene interrotta perché c'è un problema di salute oppure un problema di sicurezza come abbiamo appena visto per i collaboratori questo è un danno per l'azienda, per il contratto che non si è riuscito a firmare oppure per l'ingegnere che non è riuscito a arrecarsi nel luogo dove si deve arrecare per effettuare il servizio eccetera e ovviamente come anticipava prima Luca poi vengono rimborsati dalle assicurazioni però il costo di un'evacuazione o rimpatrio è un costo molto molto significativo soprattutto in questi periodi di Covid per le aziende per non parlare del rischio di reputazione quindi ovviamente non è bello apparire sui media per queste ragioni quindi per mancata protezione dei collaboratori e anche del fatto che soprattutto in questo periodo di Covid dove il duty of care quindi dove la protezione dei collaboratori è diventata un pochino il centro dell'azione di molte aziende delle preoccupazioni anche dei collaboratori stessi avere un'azienda che ha un programma di duty of care dei collaboratori all'estero organizzato permette ai collaboratori stessi di lavorare in maniera più tranquilla con lo spirito più tranquillo di affrontare le loro missioni in maniera più agile quindi questo era giusto per condividere con voi il duty of care e perché noi International S.S. parliamo di duty of care perché siamo presenti in questo in questo campo e il nostro settore da 35 anni quindi da quando l'azienda è stata creata vi do giusto due parole un attimo di contesto per definire appunto l'azienda visto che siamo qui a già effettuare questo webinar insieme ed è International S.S. è proprio il leader mondiale nella gestione dei rischi della forza lavoro quindi non siamo come diceva Luca prima giustamente un'assicurazione siamo una società che è presente on the ground sul terreno in tutto il mondo come vedremo fra pochissimo e che ha come scopo principale quello di mitigare i rischi e fornire assistenza nel caso si verifichi qualcosa all'estero quindi non facciamo assistenza appunto ai turisti non facciamo assistenza alle autovetture facciamo davvero assistenza forniamo davvero assistenza ai collaboratori alle organizzazioni quando vanno in viaggio all'estero oppure quando hanno anche del personale espatriato all'estero per darvi un'idea abbiamo oltre 12.000 collaboratori in tutto il mondo di questi oltre la metà sono esperti medici paramedici logistica abbiamo accesso oltre 3200 esperti security quindi è davvero un expertise operativo che mettiamo a disposizione fra i nostri clienti abbiamo quasi tutte le principali aziende italiane sono nostri clienti ma è fondamentale notare che anche aziende che hanno 10 collaboratori o pochissimi collaboratori che vanno all'estero durante l'anno sono nostri clienti proprio perché effettuando solo lavorando solo nel B2B è proprio il nostro compito quello di fornire assistenza alle aziende parlavamo prima di assicurazione di centrale operativa delle assicurazioni quindi uno dei motivi per cui effettivamente abbiamo questo diciamo numero di clienti elevato per cui è una differenza fondamentale con l'assicurazione è proprio il fatto che mettiamo a disposizione dei clienti 27 centri di assistenza che sono queste icone che vedete in blu e quindi permettono e quindi questa è la differenza un pochino anche principale con l'assicurazione quindi avete a disposizione tutti gli esperti che menzionavo prima in questi centri di assistenza dove lavorano in maniera integrata fra di loro e quindi quando si riceve una chiamata se c'è un problema medico si parlerà con un medico se c'è un problema security si parlerà con un esperto security e quello che è importante notare è che molto spesso i casi di assistenza soprattutto oggi in questo periodo di crisi ucraina e covid ci ritroviamo ad avere dei casi che sono medici e security allo stesso tempo e quindi in cui c'è bisogno di avere un expertise medico e sanitario congiunto e è un'assistenza una vera e propria assistenza quindi non una gestione del rischio economico potremmo fare il paragone sia un incendio in casa chi chiamo chiamo i vigili del fuoco oppure no cioè il punto fondamentale è che ho bisogno di un esperto nella gestione appunto del rischio questo è il nostro lavoro da oltre 35 anni ecco quindi questa era per condividere con voi un po' la global footprint quindi avrete sempre c'è sempre un centro di assistenza che ha la competenza del territorio e parla la lingua del territorio quindi parliamo oltre 100 lingue e poi ce n'è uno che ha la competenza del cliente quindi che parlerà con voi quando inviate un collaboratore all'estero qual è la base un pochino dell'analisi di rischi quindi dell'analisi quando si inviano collaboratori all'estero appunto per garantire il duty of care è prima di tutto avere accesso ad un'informazione che sia obiettiva che sia un'informazione che consenta soprattutto a voi il cui scopo è comunque di operare di continuare a operare in tutto il mondo per fornire continuare a essere operativi quindi a favorire la vostra business continuity e di avere accesso a delle informazioni che siano il più oggettive possibile e questo che vedete è proprio allora è una risk map quindi ovviamente viene redatta alla fine di solito dell'anno precedente quindi questa è stata finita a dicembre del 2021 poi ovviamente sul sito con i nostri clienti hanno accesso al dettaglio e agli aggiornamenti di questa mappa ma permette di avere i colori danno un'immagine di quello che è il rischio sanitario e le lettere purtroppo sono un po' piccoline immagino sui vostri schermi ma permettono di avere il rischio security in modo tale che in un solo colpo d'occhio si abbia la chiara idea di dove sto inviando dove sono i miei collaboratori e ovviamente non è un soltanto un rischio a livello nazionale ma si va nei dettagli delle regioni, delle singole città e si vanno a fornire tutta una serie di informazioni anche relativi alla cultura del paese ai punti su cui bisogna fare attenzione per mitigare il più possibile i rischi quindi per fare un esempio ci saranno dei paesi dove addirittura anche il tipo di provider che vado a scegliere, non lo so addirittura il taxi quando arriva all'aeroporto è importante scegliere una compagnia di taxi e non l'altra è importante avere magari un meet and greet quindi avere qualcuno che mi aspetta all'aeroporto quindi dalla mappa, da questa valutazione poi si scende nei dettagli delle guide paese per essere completamente al corrente sia l'azienda e sia i viaggiatori di quello che avviene in quel paese e di come mitigare i rischi e soprattutto vediamo nel mondo di oggi chiunque può andare su internet e scrivere per esempio Nigeria e quindi avrà accesso a tutta una serie di informazioni di open media pubbliche che magari non riguardano la regione dove io sto andando oppure che magari sono allarmistiche noi cerchiamo di fornire un'informazione che sia oggettiva e con delle misure di mitigazione che siano collegate a questa informazione riesco a cambiare la slide ecco quindi per andare un attimo un attimino un po' più nel concreto come supportiamo i dipendenti dei nostri clienti in caso di crisi e soprattutto possiamo fare qualche esempio concreto purtroppo in questo momento perché come sapete tutti c'è una crisi in questo momento in Ucraina quindi giusto per darvi qualche esempio pratico da questo punto di vista quello che stiamo facendo in questo momento in Ucraina e nei paesi limitrofi perché poi questa crisi riguarda anche la Polonia riguarda anche la Russia stessa riguarda tutti i paesi che sono limitrofi all'Ucraina quindi prima di tutto stiamo fornendo tutta una serie di allerte di informazioni quindi i nostri analisti redigono degli allerte appunto per il B2B per le persone, per i collaboratori che sono lì che gli permettono di sapere quello che sta accadendo on the ground sul terreno e sono preparate da persone che hanno dei profili che vengono dal mondo dell'intelligence dei servizi quindi oppure dal mondo delle ONG da giornalisti dal settore ex settore pubblico ministero della difesa quindi dagli esperti che poi spiegano anche rispetto a questa alerta che forniamo quindi su quello che sta accadendo in Ucraina in questo momento cosa bisogna fare come bisogna comportarsi forniamo anche proprio di briefing ai clienti specifici su qual è la situazione della crisi quali sono le aree che bisogna evitare qual è la nostra visione rispetto a quello che accadrà nei prossimi giorni quindi come noi diciamo dall'inizio non è una crisi che finisce in qualche giorno è una crisi che purtroppo si protrarrà si protrarrà e si protrarrà ancora per un pochino di tempo e quindi bisogna rimanere preparati a tutto fondamentalmente in questo momento esiste un portale quindi delle informazioni dedicate proprio specifiche all'Ucraina abbiamo creato un portale specifico per i nostri clienti ed è possibile comunicare quindi attraverso dei tool specifici è possibile comunicare in tempo reale con la propria popolazione che si trova sul territorio oppure che deve viaggiare in Ucraina o nelle zone soprattutto nelle zone limitrofe quindi negli altri paesi in modo tale da potergli comunicare in qualsiasi momento o ricevere le nostre alerte le nostre informazioni in maniera proattiva oppure quindi automatica direttamente da International SS oppure l'azienda stessa vuole fare dei richiami delle puntualizzazioni e può comunicare con loro quello che è importante sapere riguardo appunto questa crisi in Ucraina è che è fondamentale nel nostro settore come diceva anche Luca prima che è proprio essere proattivi che la prevenzione 12 giorni prima dell'inizio della crisi abbiamo proceduto a inviare un'allerta ai nostri clienti invitandoli ad evacuare il paese il che ovviamente anche al momento magari non è stato così semplice spiegarlo perché molte aziende magari sarebbero pensavano fosse possibile rimanere non credevano che la situazione potesse degenerare però la nostra visione la nostra analisi l'esperienza on the ground ci indicavano questo e quindi abbiamo effettuato questo è stato il nostro consiglio e quindi molte aziende hanno lasciato parecchi giorni prima allo stesso tempo abbiamo inviato sul terreno quindi in Ucraina i nostri esperti security medici e abbiamo rafforzato rinforzato le nostre relazioni già preesistenti con i provider in loco quando parlo di provider parlo di aziende di sicurezza ma parlo anche di aziende di trasporti di logistica per essere pronti poi eventualmente ad effettuare delle evacuazioni dei rimpatri nelle zone di mitrofe o nel paese di appartenenza e questo purtroppo è esattamente quello che è avvenuto quindi da quando è cominciata la crisi abbiamo effettuato un numero incredibile di evacuazioni rimpatri anche per aziende italiane o all'inizio soprattutto direttamente appunto con nostri provider che li mettevamo a disposizione e che quindi li portavano al di fuori del paese oppure alcune persone l'hanno lasciato con mezzi propri il paese e noi siamo riusciti ad indicarli quali erano le strade più sicure le vie di uscita più sicure dal paese per evitare appunto le zone di guerra per evitare le zone più pericolose è importante sapere che ovviamente come capita in questi casi gli uomini per esempio dai 18 ai 60 anni erano coscritti quindi dovevano non possono lasciare il paese e noi ci atteniamo comunque alle regolamentazioni dei paesi e quindi per esempio la maggioranza delle evacuazioni dei rimpatri che è stata effettuata sono state per persone al di fuori degli uomini da 18 ai 60 anni quindi spesso donne e bambini oppure persone un pochino più più anziane abbiamo alcune persone con la loro lettura sono partite dall'Ucraina e sono arrivate direttamente in Austria o in altri paesi ad alcuni abbiamo detto non andare magari in un determinato paese non lo so per esempio in Voldavia perché magari la situazione in questo periodo al confine è un pochino complicato oppure la situazione sanitaria è un po' precaria vai magari in Romania o vai da un'altra parte quindi anche questo fa parte del tipo di consigli che abbiamo fornito all'azienda oppure ai collaboratori ovviamente molte persone molto personale è rimasto lì e quindi in quel caso anche non è possibile lasciare le persone sprovviste di assistenza e quindi in quel caso lì comunque hanno sempre la possibilità di chiamarci di avere supporto medico e soprattutto in questo periodo supporto psicologico quindi appunto supporto psicologico che viene fornito sia con dei webinar per magari i manager che sono lì quindi le persone che sono lì oppure per i collaboratori che si sono recati lì e soprattutto per i paesi rimitrofi anche in questo momento stiamo aiutando molto le aziende ad essere preparate quindi ad avere in estere dei piani di evacuazioni quindi nel caso in cui ci sia uno spillover ci sia una situazione di questa crisi che degenera anche agli altri paesi ci sia un piano di evacuazione quindi cosa devo fare come fare a lasciare il paese quali sono i punti di raccolta quali sono i mezzi con cui lasciare il paese come deve gestire l'azienda chi deve gestire all'interno dell'azienda questa situazione come devono essere i flussi di comunicazione quindi tutto questo è un lavoro che stiamo facendo in questo momento con i nostri clienti per tenerli pronti quindi anche supportando i loro comitati di crisi interni quindi i loro gruppi di crisi e un'altra cosa che viene chiesta moltiplicemente spesso è anche la gestione del rischio nucleare quindi abbiamo degli esperti sono proprio persone che uno è un esperto che è stato a Chernobyl e quindi hanno un expertise specifico proprio in questo tipo di diciamo di materia ecco quindi dicevamo quindi l'informazione essere preparati e poi il supporto e appunto avere questo boots on the ground avere avuto questa presenza lì per stringere rapporti con i provider per essere presenti in generale un'altra differenza molto importante con appunto l'assicurazione del motivo per cui lavoriamo anche con le assicurazioni uno dei motivi per cui lavoriamo con le assicurazioni è che l'assistenza non è sottoposta alle stesse regole dell'assicurazione quindi non abbiamo esclusioni a priori abbiamo delle esclusioni che possono essere generate da motivi di sanzioni a volte ma anche lì cerchiamo di operare anche in paesi in cui ci sono le sanzioni spesso oppure per motivi di appunto teatri di guerra quindi per esempio in Ucraina ovviamente se c'è proprio un bombardamento in corso in una città ovviamente non possiamo intervenire possiamo intervenire appena è possibile intervenire ma noi non siamo un provider che può fare la guerra tra virgolette quindi che può ingaggiare battaglie eccetera però se c'è un conflitto lì possiamo appena finisce oppure nelle zone limitate oppure giusto prima possiamo fornire supporto e poi lavoriamo ovviamente a stretto contatto con le autorità quindi conosciamo appunto il ministero degli affari esteri l'unità di crisi e quindi quando arriva ovviamente l'aereo militare della Farnesina quello è lo stato che interviene e lavoriamo in parallelo diciamo ecco quindi questo era giusto per darvi un attimo un'idea su quello che sta avvenendo in questo momento dal punto di vista più security quindi nell'ambito security con la crisi in Ucraina ovviamente come sapete tutti siamo ancora anche se ormai per fortuna almeno nei paesi diciamo europei abbiamo l'impressione che stiamo un pochino uscendo da questa crisi ma vedremo se non ci ritorniamo ad ottobre speriamo in maniera più lieve o a settembre appunto come dicevamo prima il tipo di servizi all'estero è medico e security tipo di rischi e il covid è stato proprio un fortissimo catalizzatore dei rischi medici perché abbiamo visto come purtroppo molte persone sono ritrovate all'estero con questo tipo di problematica e in paesi dove i sistemi sanitari alle volte erano al collasso e quindi International SS ha effettuato tantissime evacuazioni quindi oltre quasi 250 evacuazioni di pazienti covid e oltre 630 evacuazioni di pazienti non covid quello che è importantissimo capire in questo momento ed è per questo che riusciamo noi a effettuare il servizio essendo il provider più grande al mondo di questo tipo di servizio è che c'è una scarsità incredibile di medici proprio anche di in generale tutto quello che riguarda la health la salute è in un momento di altissima tensione quindi noi nonostante ciò riusciamo a fornire al cliente quindi per dargli un'idea proprio degli aerei specifici con delle camere di isolamento e con del personale formato a trattare dei pazienti covid e quindi a rimpatriare questi pazienti nell'home country ma è diventato un qualcosa di estremamente complicato perché mentre prima potevamo effettuare una evacuazione nel centro medico di eccellenza più vicino oggi dobbiamo rimpatriare direttamente in Italia per i clienti italiani e anche qui l'informazione è fondamentale quindi per tantissime aziende forniamo che devono effettuare un viaggio all'estero forniamo informazioni sulle restrizioni quindi quali sono le restrizioni nel paese che in essere quindi cosa devo fare prima di effettuare un test picciere oppure no e tutte quelle che possono essere le limitazioni quando mi trovo in loco Luca avevi qualcosa da aggiungere su questa parte? Volevo giusto fare un attimo il punto anche visto che hai toccato sia la la crisi diciamo geopolitica che adesso è imperversa nella zona dell'Ucraina e l'intorno ma anche il tema sanitario del del covid nel senso che questi sono stati se pensiamo agli ultimi due anni i principali eventi che hanno creato anche una necessità di supporto da parte delle aziende nel senso che io mi ricordo quando c'è stata la la dichiarazione della pandemia da parte dell'OMS quindi era marzo 2020 la preoccupazione in mezzo a tutto il diciamo i problemi sanitari non solo che ci sono che ci sono stati in quel momento la preoccupazione delle aziende è stata comunque quella di accertarsi per le persone che erano all'estero insomma di accertarsi dell'effettiva copertura che i collaboratori potessero ricevere in caso di necessità quindi andare a capire le coperture in essere quindi le polizze viaggi le polizze rimborsi spese mediche eccetera che limiti di operatività potessero avere quindi noi abbiamo fatto dei passaggi con tutte le compagnie di assicurazione con cui lavoriamo da quel punto di vista e devo dire abbiamo ottenuto la copertura del covid all'interno delle polizze di assicurazione quindi quello è sicuramente un focus che bisogna avere nel momento in cui ci si assicura però è evidente che il covid è ricompreso tra le tra le malattie tra le casistiche da assicurare la stessa cosa è invece un altro ambito di attenzione il territorio quindi l'ambito geografico in cui la copertura può operare tu dicevi prima appunto anche relativamente ai paesi sanzionati ci sono ovviamente delle criticità in caso di sanzioni in caso di guerre dichiarate per cui è opportuno verificare sempre che le coperture qualunque queste siano di tipo spese mediche di tipo infortuni di tipo viaggi bisogna verificare sempre l'operatività delle polizze in quelle situazioni poi è evidente che un servizio di assistenza ci sarà e anzi nasce proprio per quello però insomma anche essere certi che le polizze assicurative siano diciamo capienti e operative in quelle situazioni grazie mille per questa per queste precisazioni che sono effettivamente fondamentali perché sono due argomenti che vanno di di pari passo ecco quello quello assicurativo e quello on the ground e quello che però è importante magari capire anche forse anche questo può essere utile quando parliamo di questo tipo di programmi è effettivamente la parte diciamo evacuazione e rimpatrio di cui stiamo parlando oggi molto in realtà quando si applica un modello di diciamo proattivo di gestione del rischio come diceva Luca all'inizio e questa è una statistica che abbiamo basata su milioni di chiamate fa sì che si riducano le evacuazioni e rimpatri a meno dell'1% quindi quello che vedete a sinistra è un pochino un modello tradizionale dell'assistenza in cui io mi trovo all'estero sono un espatriato sono un viaggiatore ho un problema di salute ma perché ho avuto un incidente stradale ho avuto e quindi solo nel momento in cui proprio si verifica l'evento chiamo la centrale operativa classica e cerco di informarmi su appunto sul rimborso eccetera quindi in quel caso lì il 90% delle chiamate appunto sono poi evacuazioni e rimpatri e soltanto il 10% il lavoro che facciamo in tutto il mondo appunto con le maggiori aziende del mondo ma in generale con tutte le aziende del settore privato da anni è proprio quello di invertire questa piramide che vedete quindi di avere un programma che sia proattivo e quindi la maggioranza delle chiamate che riceviamo sono chiamate di informazioni consigli raccomandazioni posso farvi degli esempi pratici quindi prima di partire appunto quali sono le restrizioni legate al covid quali sono magari le vaccinazioni ho effettuato effettivamente tutte le vaccinazioni ci sono delle epidemie in corso ci sono dei problemi di salute in corso nel paese in cui mi sto recando security sono una donna che viaggia in Medio Oriente oppure in altri paesi oppure un uomo o una donna che va in un paese dove c'è un rischio di un rischio di criminalità elevata è fondamentale preparare bene il viaggio quindi in questo caso qui si fa sì che come dicevo prima la piramide si inverte e soltanto l'11% poi diventano appunto delle visite in ambulatorio quindi delle problematiche minori soltanto appunto il 2% i ricoveri e meno dell'1% le evacuazioni e riempatri ma questo risultato si riesce a raggiungere soltanto se si mette in pratica un programma di mitigazione del rischio diciamo che sia strutturato direi la parola che mi viene in questo momento non abbiamo la base forse di questo programma e tra l'altro è stata non normata perché non è una norma ma è stata è stato pubblicato da pochissimo lo standard il nuovo standard ISO non so molti di voi saranno probabilmente già al corrente l'ISO 31030 che è il primo standard che diciamo va a appunto occuparsi di questa materia e quindi permette di è proprio una gestione del rischio della forza lavoro del viaggio che l'azienda deve andare ad attuare quindi questo standard è proprio stato pubblicato da pochissimo noi come International SOS abbiamo lavorato alla creazione di questo standard a livello globale e quindi abbiamo fornito il nostro expertise per la creazione appunto di questo standard insieme ai maggiori esperti del settore e per essere compliant con questo standard compliant con la normativa italiana ma soprattutto come dicevamo prima per arrivare a gestire i rischi a minimizzare al massimo i rischi di evacuazione e rimpatre e proteggere al meglio i nostri collaboratori è necessario strutturare un programma diciamo in maniera generale come quello che vedete lo schermo che permette di preparare prevenire e supportare i collaboratori quindi nella parte di preparazione c'è effettivamente la valutazione dei rischi di cui abbiamo parlato prima che ne abbiamo parlato in maniera rapida ma è un qualcosa che a parte che appunto è stabilito dalla normativa ma è un qualcosa che l'azienda dovrebbe effettuare anche in base al proprio business cioè per capire su quali paesi puntare dove andare a mettere i propri sforzi e quindi ci sono sia il lato tattico direi del viaggio ma sia anche proprio un lato un pochino più strategico poi c'è appunto come dicevamo prima la pianificazione di cui abbiamo già parlato e un'altra cosa fondamentale di cui invece abbiamo parlato poco è la formazione del personale quindi anche questo è compreso appunto nelle norme che citava Luca prima e nella ISO è fondamentale formare il proprio personale ai rischi che va ad affrontare quando va all'estero e questo può avvenire attraverso ovviamente delle formazioni specifiche fatte con degli esperti della materia o in generale con degli esperti del viaggio oppure con gli esperti noi per esempio abbiamo degli esperti proprio anche delle specifiche zone abbiamo di recente fatto per esempio delle formazioni online per dei collaboratori che devono andare in America Latina per dei collaboratori che devono andare in Iraq con delle persone che avevano un'expertise specifico su quei paesi lì e sia dal punto di vista medico che dal punto di vista security questo quando si hanno dei progetti specifici in maniera generale bisogna formare il proprio personale anche alla gestione dei rischi quando si va all'estero quindi anche cose che potrebbero essere banali ma appunto non andare in determinate zone delle città non andare se sei in un paese determinato al di là di un certo orario uscire da solo la notte non utilizzare dei beni di lusso a vestirti in maniera apparecente se vai in determinate zone della città quindi abbiamo degli learning quindi la possibilità di avere delle formazioni degli learning interattivi che sono un pochino la base quindi l'informare i viaggiatori un'altra cosa per esempio in questo momento quasi tutte le aziende ci stanno chiedendo nostri clienti è prima della partenza automatizzare un pochino appunto il duty of care e quindi fornire in maniera automatica al momento della presentazione del biglietto anche tutte le informazioni al viaggiatore rispetto al paese dove si sta recando medico le informazioni mediche le informazioni di sicurezza ed anche avere un tick the box di compliance quindi il collaboratore dovrà confermare di aver preso le visioni delle informazioni rispettive al paese dove si sta recando quindi questo è un pochino tutto quello che sono le best practice da mettere in atto prima della partenza insieme ovviamente ad avere scaricato l'app quindi ad avere un'app che permette poi durante il viaggio quindi di essere informati in tempo reale su tutto quello che sta accadendo quindi se io sono in a Londra anche quindi perché il rischio purtroppo negli ultimi anni ormai di paesi il rischio insignificante non ce ne sono ce ne sono pochissimi la Svizzera e pochi altri quindi se io sono a Londra e si verifica un attentato riceverò immediatamente un'allerta sul mio cellulare e soprattutto l'allerta mi dirà anche non andare in questa determinata zona della città rimani in hotel oppure qualsiasi consiglio sia opportuno per quella situazione specifica e l'azienda anche perché poi queste cose capitano spesso la notte o quando uno non è al lavoro l'azienda verrà informata di quello che sta succedendo ed anche di quanti collaboratori sono lì e quali collaboratori hanno bisogno di supporto oppure invece hanno segnalato di essere ok quindi è tutto un sistema che si va a mettere in atto proprio per proteggere i collaboratori che comunque possono chiamare 24-7 la centrale operativa quindi una delle 27 centrali operative che vedevamo nel mondo la più vicina dove si trovano loro in quel momento per parlare con un esperto ed avere un accesso e un supporto diciamo in tempo in tempo reale ecco quindi queste queste è un po' durante il viaggio per accompagnare i collaboratori durante il viaggio quindi compliance informazione formazione e come dicevamo prima è fondamentale e così tra l'altro è nata la nostra azienda oltre 35 anni fa è quello di fornire supporto in tutto il mondo quindi avere accesso non solo al telefono quindi a questi esperti medici e security ma avere anche accesso proprio a tutto il personale posso fare un altro esempio pratico quindi abbiamo parlato oggi abbiamo parlato comunque molto di problematiche mediche abbiamo parlato di problematiche security ma come dicevamo proprio pochi minuti fa per esempio avevamo dei clienti italiani che si trovavano a Malbec quindi in Belgio e a Bruxelles quando ci sono stati gli attentati non nel 2016 se non erro giusto è un esempio un po' semplificativo di quello che poi è avvenuto per anni e che avviene anche oggi però qui era avevamo proprio dei clienti italiani che gestivo anche io direttamente ed erano coinvolti si trovavano lì quando ci sono stati gli attacchi all'aeroporto nelle varie stazioni della metro quindi quel caso lì è stata ricevuta una chiamata dal collaboratore che era in stato di shock sentiva le esplosioni e voleva capire che cosa doveva fare come doveva gestire questa situazione ha parlato immediatamente con un esperto security che gli ha spiegato quello che stava succedendo perché in questi casi spesso non è chiara la situazione c'è una situazione di incertezza quindi la cosa principale è essere informati e soprattutto anche gli ha spiegato che perché la persona ovviamente voleva si trovava in ufficio nelle vicinanze dove c'era stato l'attentato e voleva uscire voleva andarsene il più velocemente possibile da dove si trovasse pensando lui di scampare il pericolo noi gli abbiamo detto invece di rimanere lì dove era perché gli attentati erano ancora in corso e gli attentatori erano ancora in azione e quindi abbiamo detto di rimanere lì dove era siamo rimasti il telefono con noi abbiamo calmato l'abbiamo rassicurato e poi abbiamo verificato le varie opzioni per poter impatriare questa persona e ovviamente l'aeroporto di Bruxelles era fuori uso perché gli attentati erano proprio lì avevamo valutato credo Dusseldorf e insomma tutti i più vicini il primo dove siamo riusciti a trovare della disponibilità era l'aeroporto di Parigi quindi appena è stato possibile poi effettuare quindi è stata riaperta al traffico anche la zona dove si trovava la persona è stata inviata a una vettura che ha appunto preso questa persona l'ha portata a Parigi dove c'era già un biglietto prenotato e tutto e l'ha riportata in Italia ovviamente questa azione da parte dell'azienda è stata molto apprezzata dal collaboratore che ne ha parlato poi in azienda e quindi anche l'azienda ha avuto un ritorno di immagine positivo rispetto a questo evento ecco questo era giusto per fare un esempio anche security di cose che possono purtroppo avvenire in capitali europei perché spesso quando si pensa a questo tipo di rischi si pensa spesso a la Nigeria i paesi a rischio alto a rischio estremo ma invece purtroppo un problema di salute come in questo momento anche il Covid oppure un problema di sicurezza può capitare ovunque e l'azienda ha un dovere di proteggere tutta la sua forza di lavoro indipendentemente se vanno in Svizzera oppure se vanno in un paese in Libia o in un paese ad alto rischio ecco quindi da parte mia era questo quello che oggi tenevo a condividere a condividere con voi non so se ci sono state delle domande nel frattempo che possiamo sì 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 ci sono le domande grazie Pietro grazie Luca allora la prima domanda è ci sono dei paesi in cui non può essere fornita assistenza e per quali motivi in effetti come diciamo prima e questo è un argomento dove non c'è una risposta chiara sì o no nel senso che in generale nel campo dell'assistenza il gergo che usiamo è una frase inglese che è best effort basis quindi di fare effettuare qualunque sforzo possibile a seconda della situazione specifica quindi in generale tendiamo a non avere per esempio in questo momento c'è una limitazione in Iran dovuta alle sanzioni del governo americano come dicevamo c'è può essere una limitazione quando c'è una guerra attiva in corso però altrimenti come società di assistenza e poi magari Luca potrà precisare dal punto di vista assicurativo come società di assistenza cerchiamo di fornire assistenza in qualsiasi momento sì l'abbiamo visto in diverse situazioni ovviamente ci sono dei casi in cui intervengono dei contesti ad esempio di guerra dove se devo pensare ad esempio alle cure sanitarie è anche impossibile poi fruire di quelle prestazioni se c'è una situazione di guerra in atto quello che diventa fondamentale in quel caso è l'assistenza nel senso che la capacità di prelevare la persona e trasportarla nel luogo più vicino dove effettuare quelle cure a quel punto diventa diventa determinante quindi è evidente che anche qui il modello integrato permette poi di avere una soluzione anche anche in quelle situazioni lì ok allora l'altra domanda è qual è la differenza tra il supporto offerto da International SOS e quella della Farnesina sì magari su questa posso effettivamente posso intervenire allora International SOS è un'azienda privata che lavora con aziende di tutto il mondo quindi appunto i nostri clienti sono le aziende quindi forniamo un'informazione che è diciamo il più obiettiva possibile riguardo al settore al nostro settore di attività quindi al B2B alle aziende e collaboratori che vanno in viaggio oppure agli espatriati e cerchiamo di fornire le alerte che siano il più proattivo possibili il più velocemente possibile in generale più o meno 20 minuti dopo che si è verificato un evento e mettiamo l'alerta perché 20 minuti dopo perché c'è sempre c'è l'intelligenza utilizziamo per esempio i tool di intelligenza artificiale utilizziamo le open source utilizziamo i nostri uomini sul terreno e quindi vogliamo sempre effettuare poi una valutazione dei nostri analisti e anche aggiungere un consiglio ai nostri collaboratori quindi più o meno in 20 minuti si ha questo tipo di informazioni invece la Farnesina ha un tipo di audience direi che è diverso perché la Farnesina quando emette delle alerte si rivolge ai turisti in vacanza alle famiglie e anche delle relazioni con gli stati che sono diverse da quelle che noi possiamo avere e dei tempi e dei modi di gestire le cose che sono quelle di un ministero e di un governo quindi sono due informazioni fondamentali perché alle volte anche la Farnesina ovviamente può avere delle informazioni che noi non abbiamo e noi come International SOS fra le nostre fonti prendiamo poi anche tutte le informazioni che andiamo a trovare su tutti i ministeri degli affari esteri del mondo fondamentalmente quindi soprattutto per un'azienda che ha collaboratori italiani che vanno all'estero è fondamentale utilizzare sia la Farnesina che un'azienda come International SOS ottimo grazie non so se Fabio avevi qualcosa da aggiungere ma io direi che i due relatori hanno già detto tutto e quindi non ho niente da aggiungere se c'è qualche altra domanda ma non ne vedo altre esatto io direi che possiamo anche chiudere questo evento quindi alle aziende oggi presenti che alle quali verranno in mente domande a partire da domani potranno ovviamente contattare gli esperti di Mars e avranno tutte le risposte del caso credo che le slide possano essere inviate esatto arriverà un'altra email con la registrazione dell'evento e anche le slide che abbiamo condiviso oggi perfetto quindi chiudiamo qua io ringrazio tutte le aziende oggi partecipanti i relatori e Mars che ha consentito la realizzazione di questo importante webinar e buongiorno arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti arrivederci